Hanno allestito una tenda da campeggio proprio di fronte al palazzo di città gli oltre 50 lavoratori interinali di Attiva. È la conseguenza dell'incontro avvenuto ieri mattina con l'amministrazione comunale e il governatore della regione D'Alfonso. In quell'occasione infatti si attendeva il risponso sulla richiesta di assunzione a tempo indeterminato di tutti quei lavoratori che erano stati tenuti per anni nel precariato. Ieri praticamente l'ennesima presa in giro in pratica perché si sono tirati indietro come le altre volte perché ci avevano fatto delle promesse che avevano trovato addirittura una strada per poter risolvere il problema però poi ieri durante il tavolo tecnico hanno ribadito la stessa storia cioè che il concorso è stato fatto in modo regolare e che quindi noi probabilmente dovremmo andare avanti con i ricorsi che abbiamo fatto. Da precisare che non sono solo 36 mesi cioè qui c'è gente che i 36 mesi li ha superati di molto ma di molto di molto. Come annunciato dagli avvocati dei lavoratori si proseguirà con la richiesta di reintegro per vie legali ma oggi quei lavoratori spiegano che le vie legali nel caso in cui dovessero avere la meglio andrebbero a pesare sulle tasche dei cittadini di Pescara. Che alla fine di questa ambaradam l'amministrazione comunale non solo alcuni di noi, molti di noi li dovrà reintegrare a tempo indeterminato ma dovrà pagare anche delle spese legali a noi personalmente e anche agli avvocati. Tutto questo andrà ad incidere sul costo che pagherà il cittadino di Pescara perché chiaramente poi secondo me aumenterà l'immondizia e il cittadino pescarese calcerà i soldini perché quelli sono soldi che calcerà il cittadino pescarese.